Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Un rapido passaggio instabile porta a qualche precipitazione, specie nelle zone interne tra oggi martedì e domani mercoledì. Miglioramento da giovedì con temperature in aumento. Il dettaglio oggi martedì 7 giugno soleggiato lungo la costa, nuvolosità variabile su rilievi e zone interne dove saranno possibili isolati rovesci o temporali nelle ore centrali. Venti in prevalenza deboli meridionali, rotazione da settentrione in serata, mare mosso, molto mosso, levante in serata, temperature massime pressoché stazionarie lungo la costa intorno a 25 e 26 gradi nelle zone interne tra 24 e 26 gradi. Domani mercoledì 8 giugno poco nuvoloso al mattino, addensamenti più consistenti in transito verso levante dal pomeriggio, possibili isolati rovesci o temporali associati, ancora poco nuvoloso la sera. Venti deboli meridionali, rotazione da settentrione in serata, mare mosso, molto mosso sui capi esposti di ponente in serata. Temperature minime in lieve aumento lungo la costa tra 20 e 22 gradi nelle zone interne tra 16 e 19 gradi, massime in lieve diminuzione lungo la costa intorno a 24 e 25 gradi nelle zone interne tra 22 e 26 gradi. Dopodomani giovedì 9 giugno residui addensamenti destinati a diradarsi nel corso della mattina fino a cielo sereno su tutta la regione. Venti settentrionali in intensificazione fino a forti la sera, mare mosso, nuovo aumento fino a molto mosso sul centro e sul levante. Temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 18 e 21 gradi nelle zone interne tra 15 e 17 gradi, massime in aumento lungo la costa intorno a 26 e 27 gradi nelle zone interne tra 23 e 27 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal, sul profilo instagram dell'agenzia e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!